mini sessione per glutei e interno coscia in questo allenamento alterneremo esercizi mirati in piedi e a terra sul tappetino iniziamo ok iniziamo programma gluteo interno coscia base posizione quattro zampe slancia la gamba sinistra movimento lento preciso iniziamo subito ad attaccare i glutei per un gluteo sodo 3 2 1 vai stesso esercizio con la gamba destra slancia la gamba indietro e ritorna movimento pulito preciso controlla la salita e la discesa rassodiamo i glutei e poi andremo a lavorare su interno coscia 5 4 3 2 1 via ora slanci alternati gamba destra e sinistra non inarcare la schiena separa bene i due movimenti slancio appoggio slancio appoggia bene le braccia continua con la respirazione 3 2 1 ok recupera e posizionati su un fianco iniziamo a lavorare l'interno coscia lo rassodiamo gamba destra piegata avanti alla sinistra solleviamo la gamba sinistra movimento lento controllato appoggiamo bene le braccia addome contratto gamba tesa saliamo e scendiamo trattieni in discesa appoggio e riparti mantieni la respirazione attiva 5 4 3 2 1 ok recupera ora cambiamo la gamba ci giriamo dall'altra parte sempre interno coscia andiamo a lavorare 3 2 1 gamba sinistra piegata davanti alla destra solleva la gamba destra movimento lento controllato gamba tesa piede fermo sali e trattini in discesa appoggia bene alle braccia per l'equilibrio e la stabilità mantieni la respirazione attiva 10 secondi non ti fermare movimento controllato lento 3 2 1 ok recupera e torna a 4 zampe ora slanci alternati gamba destra e sinistra pronti 1 vai non inarcare troppo la schiena slancio controllato e scendi slancio controllato e trattieni in discesa lavoriamo bene il gluteo stimoliamo la durezza del gluteo spingi e rientra 5 4 3 2 1 ok pausa togliamo il tappettino e saliamo in piedi ripartiamo con squat più calcio frontale uno squat e un calcio frontale addome contratto scendo salgo e calcio scendo salgo e calcio fai lavorare le braccia per mantenere l'equilibrio respirazione attiva butta fuori l'aria quando dai calcio 3 2 1 cambio squat più calcio laterale non andare veloce mantieni il controllo del movimento separa bene i movimenti addome sempre contratto lavora le braccia ci aiuta in stabilità 5 4 3 2 1 ok recupera rimane in posizione ripartiamo con affondo indietro più slancio gamba sinistra mani sui fianchi riparti affondo e slancio con la gamba sinistra sinistra in affondo scarica il peso al centro del movimento mantieni la respirazione attiva lavoriamo bene sui glutei interno coscia gambe 5 4 3 2 1 cambio gamba la destra affondo e slancio con la destra usa le braccia per coordinare il movimento nello slancio non sollevare troppo la gamba controlla il movimento utilizza le braccia per la stabilità 5 4 3 2 1 ok recupera ripartiamo squat completo più mezzo squat attiviamo i glutei glutei sodi duri vai uno squat completo è un mezzo squat bacino arretrato il ginocchio che non supera la punta del piede controlla la discesa controlla la respirazione prendi aria e butta fuori 5 4 3 2 1 ok cambio affondo incrociato destra sinistra attiviamo il gluteo diamo forma e spessore al gluteo tonificazione mantieni l'equilibrio affondo indietro incrociato il ginocchio che va indietro in linea vai 5 4 3 2 1 ok pausa preparati per il molleggio su squat respira riprendi fiato il bollese un esercizio che va ad aggredire il muscolo del gluteo per la tonificazione lavora sulla gamba 5 4 3 2 1 posizione di mezzo squat molleggio basso intenso stai bene indietro col gluteo braccia in avanti per l'equilibrio della posizione ginocchio che non supera la punta del piede non scendere troppo mantieni lì 5 4 3 2 1 ottimo cambio squat e dopo calcio vai ripartiamo ritmo sostenuto scendi bene in squat bacino arretrato ginocchio che non supera la punta del piede scendi calcio calcio 5 4 3 2 1 ok respira riprendi fiato ripartiamo con squat più gomito ginocchio incrociato 3 2 1 vai squat tocco gomito ginocchio incrociato talloni bene appoggiati a terra scendi in squat sali incrocia ginocchio gomito vai vai scendi sali scendi sali 3 2 1 cambio squat ginocchio al petto alternato squat poi su ginocchio al petto squat preciso ginocchio alto quando sali mantieni il ritmo scendi e sali col ginocchio scendi e sali col ginocchio 3 2 1 ok pausa riprendiamo il tappettino continuiamo con una sessione a terra sempre per i glutei gluteo tonico e duro ripartiamo slanci glutei più movimento laterale gamba sinistra vai sinistra tesa fai uno slancio laterale a destra e a sinistra movimento lento pulito preciso salgo rientro salgo esterno 3 2 1 cambiamo gamba sempre slancio laterale con la gamba destra gamba destra tesa fai ampi slanci laterali destra sinistra slancia da una parte slancia dall'altra 5 4 3 2 1 ok recupera rimane in posizione ripartiamo con lo slancio gluteo gamba sinistra posizione a quattro zampe vai slancia la gamba sinistra movimento lento preciso controllato non inarcare troppo la schiena la gamba sale a 45 gradi sali e trattieni discesa sali e trattieni discesa 5 4 3 2 1 ok cambia slancio gluteo destra indietro parti subito stesso esercizio con la gamba destra slancia la gamba indietro e ritorna movimento pulito concentra la tua attenzione sulla contrazione del gluteo sali contrai e scendi piano 3 2 1 ok recupera e rimani in posizione riprendi fiato ripartiamo con slanci da terra compiegamento ginocchio gamba sinistra vai posizione quattro zampe slancia la gamba sinistra movimento lento preciso non inarcare troppo la schiena sali con la gamba piega sali con la gamba piega 3 2 1 cambia gamba piegamento ginocchio gamba destra e porto sul tallone al gluteo concentra la tensione sul gluteo vai sali e chiudo scendi sali chiudo vai 3 2 1 ok la tua sessione interno coscia e glutei è terminata grazie a tutti Grazie a tutti.